Sono contento ovviamente della vittoria, faccio i complimenti alla squadra come ha interpretato la partita dall'inizio alla fine, sono stati bravi, sempre tenaci su quello che ci eravamo prefissati di fare, volevamo giocare una partita sul ritmo, ci siamo riusciti, sono stati bravi anche in difesa a fermare un po' le principali caratteristiche loro, abbiamo concesso qualcosa da due punti ma abbiamo fermato il tiro da tre che era un po' il nostro obiettivo. Quindi un'altra partita positiva, un'altra vittoria, poi approfitto dell'occasione per ringraziare tutti i tifosi che erano presenti, anche se in ritardo ma come si dice il tempo degli auguri non passa mai, augurio di Buon Natale, a questo punto dell'anno nuovo per tutti, i tifosi, i ragazzi della curva, gli arditi che sono sempre gentili, carini e fanno sentire una partecipazione però che tutto il pubblico segue, tutti partecipano e veramente tanti auguri a loro ma a tutta la gente che è presente, che partecipa, ci dà una bella mano, una bella spinta e tutti aiutano i positivi per la squadra.